questo si chiama pietra pazza ok nucleo centrale di un agglomerato che in passati ha avuto una storia incredibile ce l'ha anche adesso per quale motivo perché la chiesa è ancora consacrata quindi chiesa e canonica in realtà per tanti anni la canonica è stata anche la scuola pluriclasse di questa vallata teniamo conto che dai primi anni del 1960 tutte queste zone si sono spopolati processo inverso vi spiego tutto il nostro territorio era governato da questi grandi feudatari di nome conti guidi che si erano divisi le proprietà tra romagna e toscana quando i conti guidi furono cacciati dalla repubblica fiorentura cosa è successo che tutta la gente che fino a quel momento era stata dentro al castello o appena nelle zone di indietro si è sentita in diritto e in dovere di andare a cercare miglior di quindi ha cominciato andare nell'entroterra bagnese qui siamo nel comune di bagno di romagna ancora e ha cominciato a fare gli appoderamenti il primo step il primo passaggio era il ronco roncare cosa significa che era una pratica precisa arrivare in un posto tagliare il bosco la ramaglia bruciarla i tronchi costruire case o altre cose quindi questo processo è nato proprio verso il 1480 processo inverso quindi costruzione di case strade mulattiere chiese cimiteri e c'è stato non dico del benessere perché assurdo definire benessere però la gente finquanto non aveva necessità di luce di acqua chiamiamola corrente in senso come acquedotto di spostarsi non fisicamente a piedi perché dobbiamo capire una cosa che dal di qui andare a cercare una un dottore non è che andavi lì dietro dove andare a bagno di romagna bagno di romagna dove partire di qui hai visto dove sei andato da montecarpano poi devi scendere giù a bagno montecarpano mille metri qui è 6 25 l'inverno non è proprio easy non è il massimo dei massi racconto due cose al volo magari se le vuoi tagliare le tagli ma questa è storia di vita vissuta nel senso che ci fu un anno che la neve fioccò per giorni 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 continui e insomma dico ci furono due morte abbastanza violenti in seguito delle slavine e cosa fecero il funerale lo fecero dopo 15 20 giorni quindi succedevano anche queste cose quindi processo di stabilità di persone processo inverso come ho detto prima negli anni tra gli anni 60 agli anni 70 credo se ricordo se non ricordo male gli ultimi abitanti che sono partiti da bagno adesso prenderete questa strada dopo circa mezzo chilometro sulla destra c'è questo posto che si chiama cadi pasquino gli ultimi abitanti che sono partiti a pietrapazza penso che sia stata nella primavera del 1970 quindi queste zone sono tutte completamente disabitate non guardiamo alcune case che sono state ristrutturate ma esclusivamente per godere del di magari di ferie eccetera eccetera quando arrivate più avanti prima di arrivare a ponte bottega c'è questa casa meravigliosa sulla sinistra che si chiama cetoraio è una casa per ferie no cosa ho detto è una casa ristrutturata data in gestione è una cosa molto bella la vedrete queste guide non sanno cosa dire alternative a corrente alternativa io me lo posso permettere 40 anni io il primo attestato di accompagnazione di montagna ho preso 1988 mi posso permettere anche a dire qualcosina di più magari magari però è per il bene io lo dico sempre esclusivamente perché amo come dicevo con lei quando stavamo venendo in macchina io credo di aver fatto la moneterra bagno di pietrapazza e ritorno almeno 180 volte credo nella mia vita detto questo detto questo la vallata di pietrapazza coincide col fatto che esiste il bidente è un fiume non ha avuto molta fantasia bidente della vallata di pietrapazza poi nel versante opposto c'è il bidente della vallata di ridracoli non so se hai avuto modo di capire del lago di ridracoli ancora non c'è stato parlato va bene comunque quella lì è dove c'è questa diga questo invaso è la vallata del bidente di ridracoli poi c'è un altro bidente che è la vallata del bidente di campiglia delle celle tutti e tre in località santa sofia si riuniscono e prendono il nome di fiumi riuniti che sarà poi il fiume ronco a fornì questa è una delle cose più belle a livello naturalistico insediativo storico culturale che ci possano essere è un esempio è un esempio vero proprio di insediamento di vita vissuta siamo ai piedi della catena appenninica non lontanissimi da quindi qui siamo all'interno del parco nazionale delle foreste casentinesi monte falterone campigna 36.400 eteri di territorio suddivisi appunto dal crinale appenninico tra romagna e toscana nel versante romagnolo del parco nazionale esiste un appezzamento di terreno solo nel versante romagnolo due terzi nel comune di valle di romagna un terzo nel comune di santa sofia è un territorio di attualmente di 864 ettari ed è ed è una riserva naturale integrale cosa vuol dire vuol dire che là dentro l'uomo veramente ci ha messo poco piede ha fatto pochi stravolgimenti quindi negli anni è la prima quindi è stata istituita pensa un attimino è stata prima istituita la riserva integrale 1959 e può essere un paradosso il parco nazionale è stato istituito nel 93 teniamo conto che prima del parco nazionale ma solamente il versante romagnolo ha visto il parco di crinale del versante romagnolo erano 16 mila ettari allora poi fu istituita la legge quadro sui parchi nel 91 che non esisteva una legge quadro dei parchi nazionali nel 91 è stata varata la legge quadro e proprio in quel frangente è stata varata messa a punto la perimetrazione del futuro parco nazionale che come tu ho detto è arrivato nel 93 quindi prima riserva naturale integrale poi parco nazionale dal 2017 la riserva integrale di sassofratino è diventata patrimonio dell'umanità quindi credo che un biglietto da visita così importante abbia poche al mondo non europa riserva naturale integrale patrimonio dell'umanità la motivazione del patrimonio dell'umanità non è dettata solamente dal fatto che tu là dentro non ci puoi andare se non vabbè tu potresti chiedere lo faccio a livello conoscitivo scientifico allora l'amministratore delle foreste ti può dare il permesso sempre accompagnato dal corso forestale rostro carabinieri forestali ma la motivazione dell'appellativo del patrimonio dell'umanità è data non solo da quell'appezzamento ma dalle foreste faggete vetuste e per vetusto non significa solo vecchio significa bello grandioso spettacolare e queste fore e queste faggete sono sicuramente tra le più belle dell'europa sicuramente quindi ecco la motivazione per cui chi viene nel nostro territorio apprezzando tutto il territorio l'avrei potuto vedere strade sterrate mulattiere sentieri ma soprattutto questa magnificenza di questo crinale che la fa la padrona mi blocco qui altrimenti vi addormento a tutti e non va bene no ma la figlia era bello spettacolare c'è la storia sì dai è una cosa molto importante è una cosa molto importante sì 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 è curioso basta vedere il cimitero sabbiante la vegetazione intesa come piante che ci sono qui anche se in realtà te lo dico velocemente la vegetazione cambia a seconda dell'altezza quindi del clima qui siamo a 625 metri quindi ci saranno querce ci saranno carpini frassini man mano che ci spostiamo verso l'alto e quindi ipotizziamo di prendere questa mulattiera e salire a mille metri il paesaggio cambia totalmente perché a quelle altezze domina il faggio esiste un bosco di transizione alla faggeta cosa vuol dire che fino ai 950 metri circa persistono ancora parzialmente queste piante ma da quel momento in poi chi domina in assoluto il faggio in realtà non è così perché il più grande la più grande espressione di naturalità dei nostri territori è sia la faggeta ma il bosco misto cioè faggio e abete bianco che si trovano che si trovano se noi guardiamo e vediamo dei grandi apprezzamenti di abete bianco quello è un bosco artificiale ma se noi vediamo faggio e poi adesso che ancora molto verde vediamo qualche macchia di abete bianco quello è un bosco misto laddove se noi andassimo ad esempio all'ermo di camaldolo in altri posti dove c'è in campigna dove c'è tanta abete bianco quello è coltivato piantato e potremmo notare che dentro il bosco di abete bianco non nasce niente perché un terreno acido dovuto alla resina e uno può dire subito osservare ma come e come fa l'abete bianco a vivere col faggio perché il faggio gli procura lettiera humus e quindi un faggio riesce scusa l'abete bianco riesce a vivere quando l'abete bianco è in sovrannumero tra virgolette regredisce l'abete bianco quindi è un processo naturale incredibilmente bello ok quindi questa qui è il grosso modo e la faggetta persiste fino ai 1650 metri circa l'abete bianco invece vegeta vive tra i 950 e 1420 se andando verso rio salso dove abita la mia compagna e che nel versante toscano del parco l'altra sera la sua sorella ci ha mandato un audio si sentono già i bramiti dei cervi che sai cosa sono quindi se tu cominci a andare se voi andate su e girate sentite qualcosa che sembra un toro una mucca secondo me possono cominciare a essere i bramiti si perché loro cominciano tra metà settembre e metà ottobre finiscono ma non è che timbrano il cartellino ed è una cosa finita quindi potrebbero anche in base all'evoluzione della stagione bravissimo e ci sta adesso che è stato un caldo immenso e che loro ci sono per tanto tempo chetati e cominciano a avere un modo di esprimersi perché c'è tranquillità perché è più fresco o magari le femmine cominciano a muoversi sentono l'estro ma i bramiti persistono solo in questo periodo e in questo periodo il maschio tende a formare are negli altri periodi quindi 11 mesi praticamente e vivono i cervi in gruppi unisessuali maschi da una parte e fino ad un'altra poi abbiamo caprioli daini una cosa importante da anni è tornato il lupo per molti è un elemento di disturbo non è così perché se il lupo potrebbe anche a volte aggredire pecore è ovvio che l'allevatore si arrabbia ma siamo nel 2021 e ci sono dei metodi per tenere il tuo gregge in maniera incredibile quindi cani da guardiania pastori maremmani che sono specializzati in questa cosa la rete antigatto si chiama così perché è rivolta la parte superiore verso l'esterno interrata di mezzo metro e salvi le tue pecore in ogni caso non è colpa del lupo è colpa nostra che gli abbiamo invaso il suo territorio quindi il lupo è giusto che faccia il suo lavoro da lupo bravissimo perché il lupo in un ambiente naturale mantiene un equilibrio faunistico eccellente mi spiego e lui non è uno stupido aggredisce animali vecchi ammalati o feriti perché lui deve il tutto subordinato al cibo ma deve anche dosare le proprie energie perfettamente inutile che corra dietro intelligenti abbiamo detto tutto e i cinghiali? i cinghiali ci sono ma anche lì è sempre colpa dell'uomo adesso l'altro giorno parlavo con due ragazzi che sono venuti nel mio negozio e allora questi due ragazzi parlano 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 poi a un certo punto lui ha cominciato a dire sì perché perché dai qui è tutta una confusione non si capisce più niente e poi anche i cinghiali io ho visto uno di quattro quintali e io ho riso dentro di me ovviamente ho risato una pancetta dal basso ventre e si è fermata qui cioè dobbiamo capire che un maschio adulto di cervo è due quintali e mezzo un cinghiale di quattro quintali è simile a un elefante cioè una via di mezzo tra gli elefanti è un dromedario via insomma ma dico ecco è un poco provabile vabbè poi dopo vi dico questa chiudiamo a un certo punto mi fa sì perché e poi era con la sua ragazza diceva no ma perché l'ambiente sì o il lupo deve far quello poi a un certo punto lui sì sì però li ho visti io due orse l'altra volta l'orso si è estinto nel 1750 e tu che negozio hai? eh vabbè io ho avviato sentito degli ignomi a bagno nel 2001 ma fai una patola giocale per fare ok ci e il ARM eh tutto noi oggi qui ogni perché sì la